Minchia non mi ricordo nulla REC 2, te lo ricordi REC? Mi chiamavano apposta a doppiare gli horror perché io mi chiamavo sotto Non ho idea di cosa siano questi film Don Gusto, Di Una Vita, Iago Garcia Che ho conosciuto anche Scusa, dove l'hai conosciuto? Al Carrefour, a Prato Bumba ragazzi, benvenuti a un nuovo video Stavolta, riprendendo una domanda che mi viene sempre fatta Mi dicono, Maurizio ma tu quante cose hai doppiato? Chi hai doppiato? Io non me lo ricordo Quindi oggi mi leggerò la lista che c'è su Fandom.com che ha una pagina dedicata a me Ma prima di iniziare vi ricordo di cliccare sulla campanella Per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno E iscrivermi ai miei canali social E se questa bellina maglietta vi piace c'è lo store in descrizione Ma iniziamo Film, film Garrett Headland in Billy Lynn, Un giorno da eroe Non me lo ricordo Ryan Quanten in L'errore perfetto Non ne ho idea Danny Quinn in Go Go Tales Questo si me lo ricordo Perché Danny Quinn, il figlio di Anthony Quinn In questo film si era ridoppiato da solo Ed era inascoltabile E lo fecero ridoppiare a me Che anno? Beh 2009 10 Mike Jager in Denti Te lo ricordi Denti? Era il film della ragazzina che c'aveva la figa dentata e staccava i cazzo William Lee Scott in American Sunshine Minchia non mi ricordo nulla Alexander Ludwig in Go With Me Sai chi è Alexander Ludwig? L'attore che interpreta Bjorn in Vikings Cioè il figlio di Ragnar Che in Vikings doppia Simone Lupinacci Sono stato chiamato per doppiarlo in questo film con Anthony Hopkins tra l'altro Go With Me Nico Tortorella in Il luogo delle ombre Manco questo me lo ricordo Chris Waller in Fright Night 2 Sangue fresco Ah è quello dei vampiri Questo me lo ricordo È un ragazzino super fava che diventa vampiro Xavier Samuel in Drift Cavalca l'onda Questo me lo ricordo benissimo Sono due fratelli che spacciano cocaina nascondendola nelle tavole da surf E il mio fa le gare di surf e vince sempre Bello i riassunti dei film Chad Lindbergh in Oltre i binari Non ne ho idea James Bloor in Leatherface Leatherface questo me lo ricordo È l'ultimo Leatherface che è uscito Quello sulle sue origini E io sono un tizio che praticamente è super violento E si scopa questa psicopatica durante il film 5-6 volte Ed è rasato, magrolino È tutto con la voce di testa Tutto un po' E il personaggio tra l'altro si chiama Ike Ike forse Wyatt Russell in Shimmer Lake Non ho idea di cosa sia Rajesh Shringarpor in Codename Geronimo Minchia non mi ricordo una sega Andrew Shim in This Is England Questo invece me lo ricordo Molto bello This Is England è un film che affronta la tematica dei nazischini inglesi E il mio è un personaggio di colore Si chiama Milky Quindi io ti lascio immaginare Vincent Gallo in Due Giorni a New York Dove interpreta se stesso Dopo Merluzzo anche Gallo Questo lo so Clovis Cornillac in Un po' tanto ciecamente È un film che trovate su Netflix È molto molto carino È un film francese Aaron Barcelo in Sheer I sogni finiscono all'alba Dove interpretava Nicolas Quinn Ragazzi non mi ricordo un caso Alex Batilori in Rack 2 Rack 2 te lo ricordi Rack? Quello horror Facevo il ragazzino che teneva la videocamera Ori Mi chiamavano apposta a doppiare gli horror Perché io mi chiamavo sotto Raoul Peña in Caoticana Lucas Max Iglesias in Paranormal Experience 3D José Qui mi sono divertito nonostante fosse un horror Perché il mio personaggio era veramente un coglione Ismael Martinez in Rack 3 La Genesi Rafa Stefani Rideau Stefano No Stefani Una diga sul Pacifico Non ho idea di cosa siano questi film Thomas Couman in Le Fidel Pio Marmai in Ritorno in Borgogna Questo me lo ricordo è andato pure al cinema Jamie Olias in Ghost Academy Jorge Sì era un film di questi ragazzini Dove c'era un fantasma Nella scuola O erano loro i fantasma Non me lo ricordo Ma si parla di roba di mille anni fa Nikos Ghelia in Pazza Idea Xenia Questo ragazzo si chiamava Odisseas Ha trassunto i nodi Davy Shatter in We Are Young We Are Strong Mohamed Yuzri in Omicidio Al Cairo Momo Kevin Jensen in Le Ardenne Oltre ai Confini dell'Amore Erwin Nagy in Corpo e Anima Takuya Kimura in Space Battleship Yamato Sai cos'è? È il film di Space Battleship Yamato Star Blazers Con gli attori veri Per doppiare il protagonista Susumu Kodai Ecco che era Susumu Kodai È bello? No Come qualunque film Live Action dei giapponesi Nolan Gerard Funk in Spectacular Tra l'altro questo attore Nolan Gerard Funk L'ho doppiato anche In Diario di una Nerd Superstar Ma ci arrivo con i telefilm Jason Parsons Disconnected La vita in un click Benjamin Iris in 12 volte Natale Ma quanta cazzo e roba ha fatto Nathan Keys La festa peggiore dell'anno Max Carver in Halo 4 E Zachary Levi in Shazam Questo dai Questo si sapeva Spero Serie TV Travis Fimmel in Vikings Ragnar Matt Cadegno in Power Cristobal Che ho dovuto fare anche Non l'accento spagnolo Ma proprio battute intere in spagnolo Ma in quel caso Si è studiato l'accento O hai... Non hai il tempo di studiare Nel doppiaggio Anche perché tu arrivi lì Questa c'è No va rifatta Ok sentiamo com'è Ah Ico de puta Ah Ico de puta Cioè è molto immediata In realtà la cosa David Castagneda Che è Diego di Umbrella Academy Michael Dorman Che è John Tavner in Patriot Una serie fighissima di Amazon Greystone Holt in Bitten Clay Bitten è una serie di Netflix Kerr Hogan in L'altra Grace Che è sempre su Netflix Gabriel Luna Gabriel Luna Che ha fatto questo telefilm Che si chiamava Matador Dov'era questo poliziotto Che si chiamava Tony Bravo Gabriel Luna È quello che farà il nuovo Terminator Quindi Fatemelo doppiare a me Cazzo è vero Lui è il Terminator È esatto capito Kevin Schmidt National Museum Scuola di avventura Doppiavo il protagonista Di questa serie tv Che andava su Italia 1 Tra l'altro Jake Lacey In Undyna Peer Che è di scena Nick Beverly Jake Lacey Questo attore L'ho doppiato anche in Johnny English 3 Con Mr. Bean Sai dove fai il cattivo Jared Kuznitz In Underemployed Generazione in saldo Che era un telefilm di MTV Austin Butler In iCarly Leon Thomas III In Victorious Questa è un Victorious È un telefilm Che molti ragazzini Guardavano Io doppiavo André Che era questo ragazzino Di colore musicista Che faceva pisciare dalle risate Perché era la nonna pazza E lo doppiavo tutto di testa E poi a parte che ero anche Più piccolo io Però era molto divertente Mi piaceva André Era molto divertente Piazzo Robby Hamel In True Jackson Tra l'altro Robby Hamel L'ho doppiato anche in Una serie di sfortunati eventi Il telefilm Fa l'ambidestro Che è il fratello di Armie Hamel Green Arrow Bryson Gilret In My Life As Leeds Ah Bryson Daniel Uwig Power Rangers RPM È figo RPM Doppiavo il Black Ranger Poi Power Rangers Megaforce Dove doppiavo il Red Ranger Lawrence Fox In Lewis Le sorelle McLeod Parker Sawyers In Pine Gap Pine Gap È un telefilm Che trovate su Netflix È molto figo Parla di spionaggio militare Eccetera eccetera E questo attore È lo stesso Che ha fatto il film Sulla vita di Barack Obama Infatti si somiglia a un botto Morgan O'Neill In Sea Patrol Eddie Di Edgemont Leggo il personaggio Perché l'attore Vi frega un cazzo a nessuno Hannibal Bravo È in Tierra de Lobos L'amore e il coraggio Era una fiction Un telenovelas Direte 4 Spagnola Mancava una stagione Alla fine Non è mai arrivata in Italia No Palle Toby In Megamindi Simon Brandt In Nora Weiss Nora Weiss cos'è? È un telefilm Non me lo ricordo Ah è vero Zdravko Zizelov In Undercover Che è un altro telefilm Di insomma La gente che si ammazza Brian Song Che è Kim Sung Jung Coreano In DreamHig Poi qui ragazzi Si passa alle telenovelas Max Alberti In L'Enamore della mia vita Che era il conte David von Ahrensberg Questo ragazzo tedesco Mi scrisse su Facebook Per farmi complimenti L'attore L'attore Mi scrisse su Facebook Per farmi complimenti Ce l'ho ancora amico lui su Facebook Lui è un musicista in realtà E ha fatto sta telenovelas Per mia zia fu un punto d'arrivo Quando ho iniziato a doppiare telenovelas Ma il discorso è un altro Che lavorando noi Su convocazione Su righe doppiate Le telenovelas Sono un tocca sana Perché sono due Trecento puntate di roba Quindi è tanto lavoro sicuro Va benissimo fare le telenovelas Tobias Dur In Tempesta d'amore Dove era Marcus Zastro Isa TVB Raul Clavatti Rebel The Way Guido Lassen La prima voce di Guido Sono stato io In Rebel The Way Axel Pignero In Cata ai Misteri della Sfera Il Don Gusto Di Una Vita Iago Garcia Che ho conosciuto anche Ha fatto anche lui i complimenti L'ho conosciuto di persona Ma scusa Dove l'hai conosciuto? Al Carrefour a Prato Cosa? Sì perché inauguravano il Carrefour E c'era lui ospite E io ero a Prato E mamma ha insistito Fino alla morte Che la dovessi portare lì No? Praticamente cosa succede? Ero a Prato E mamma mi fa Cioè Iago Garcia Al Carrefour Ho fatto mamma Perché? Eh perché c'è la festa Di inaugurazione eccetera eccetera Mi devi portare Andiamo io mamma e papà Di inaugurazione del Carrefour Allora vedo che stavano montando Sto palco Sto palchetto C'era il tecnici Tutti quanti Io poi che sono Dell'ambiente Perché comunque Io presento tantissimi eventi Anche molto più grandi Di quello lì Insomma vado lì Poco con la mia faccia del culo Gli faccio Scusate Chi comanda qui no? Ho detto chi è l'organizzatore? Ah sono io di qua di là Faccio ciò A piacere senti guarda Io sono il doppiatore di Iago Garcia E ho portato mia mamma Oddio che bello Che bello Che bello L'età media era 176 anni No sto scherzando Comunque erano tutte signore Di mezza età Che bello Che bello Che bello Quando arriva glielo diciamo Ho fatto ma sì Dai facciamo questa cosa Contenta mamma E quando arriva lui Che è alto 9 metri Sono gli attori Sono tutti altissimi O su io che sono gnappo Sono un metro 80 E gli fanno a Iago sul palco Ma sai che abbiamo una sorpresa Abbiamo il tuo doppiatore di una vita Perché lui è stato attore anche in Il segreto È morto in tutte e due Però nel segreto lo doppiava Francesco Cavuoto Che è un bravissimo collega Mentre in una vita L'ho doppiato io D'altro Iago Garcia parla perfettamente italiano Cioè parla italiano Con l'accento della Spagna Però parla italiano Salgo sul palco Mi fanno fare questo sketch Dove lo doppio E alle signore praticamente Gli si è rirotto l'imene Perché Cioè era una signore Tra i 50 e i 70 anni Sotto il palco E tutti a fare i complimenti A mia mamma No? E mia mamma era super così Perché poi giustamente Il figlio Poi il target è quello Tutto è una questione di target Di riferimento Quando mi dicono Qual è la cosa più famosa Che hai doppiato Non c'è Perché per un ragazzino Può essere i Pokémon Per una signora Può essere la telenovelas Per un fan dei fumetti Può essere Shazam Quindi non c'è effettivamente Una cosa più famosa È tutto quello Che fa riferimento al target E Iago Il top fu Quando lui scese al palco E andò da mia mamma Andò da mia mamma Gli prese la mano E fece Mia mamma è alta così E lui è alto così Faceva Signora Suo figlio Fa un lavoro molto bello E sono molto contento De questa cosa E mamma Figurati Era tipo Stava volando Mamma Era in cielo Volava proprio Completamente Fu un evento carino Molto carino Questo fu più che altro Per mia mamma La mia emozione È stata quando ho incontrato Zachary Levi di Shazam A Londra Per l'evento di presentazione Tra l'altro Se non lo avete visto C'è il video Che abbiamo fatto insieme Qui da qualche parte Io e Zachary Levi I due Shazam insieme Quello italiano E quello originale Ragazzi In realtà Volevamo fare un video solo Ma c'è troppa roba Quindi ci conviene Dividerlo in due Anche per non diventare noiosi Tra pochi giorni Uscirà la seconda parte Dove parlerò di anime E videogame Che ho doppiato Che sono anche lì Un bel po' Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Condividetelo Fatelo vedere Amici Zé, cugine Parente, compagno Pudere Cammelle, pesce rosse Eccetera 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 Se volete la maglietta La trovate nello store Seguitemi su tutti i miei social E noi ci vediamo Al prossimo vlog Dove so cosa dirò Perché è la seconda parte Del video Che stiamo facendo adesso Aspetta Non chiudere Voglio farti sentire Un'ultima cosa Sapete bene Che per potenziare il fisico Ci sono palestra E alimentazione Ma per prepararsi Alle challenge Di doppiaggio Bisogna allenare Le corde vocali Io di solito Faccio Dieci di questi esercizi Ok? Au 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 Aaaaa Pfff Pff Pff Aaaaa Aaaaa Aaaaa